Senti Edo, io volevo farti complimenti per il balletto, stupendo, veramente una cosa speciale, ma più che altro volevo farti complimenti per il tuo gesto di prima. Quale scusa? Ma come quale? Quello quando ballava con Alessandro? No, no, il gesto ho molto apprezzato quando hai dato il calcio a Adriano. Cioè? Quando hai dato il calcio a Adriano, perché lui se lo merita, lui è un dittatore, diciamo la verità, lui ci schiaccia, ci schiaccia continuamente, anzi io gliel'avrei dato anche più forte, ecco. Così forte va meglio? Sì, sì, magari un pochino meno, un pochino meno. Oh, Maurizio!